L'ultima settimana è all'inizio della stagione, ufficialmente con il 7 ottobre si inizia a giocare con la Supercoppa. Chiediamo ad Aiden Zingel a che punto è secondo lui la preparazione della squadra? Secondo me siamo messi molto bene, soprattutto quest'ultima settimana con le due amichevole, è stato molto impegnativo, ma ci aiuta tantissimo. Abbiamo scoperto un po' di cose di migliorare come squadra e sicuramente dalla settimana prossima con il giunto dei tre italiani saremo in buona forma. Mancano ancora un po' di giocatori, esattamente quattro, ma nel frattempo, parlando di queste due amichevole, cosa hanno detto dal tuo punto di vista? Siamo una squadra completa, visto che siamo metà della squadra che sta giocando, abbiamo giocato benissimo dal mio punto di vista, quindi vuol dire che è una buona cosa per il futuro, che consigliessi il giocatore che può entrare in campo e fare la loro cosa. Le caratteristiche di questa squadra sembrano già definite, meglio imbattuta, molto attento al muro, può essere questa una delle chiavi per la vostra fortuna? Sì, secondo me sì, perché è evidente il nostro lavoro, la nostra aggressività, il muro di difesa, c'è una teoria da Angelo che dobbiamo provare ad attaccare, stiamo dimostrando in campo e sta andando molto bene. Hai ritrovato in squadra Uros Kovacevic, tu sei qui già da un po' più di tempo, che effetto ti fa, cosa ti sembra, come si sta muovendo in questi primi giorni Uros? Tu lo sappiamo perché ormai sei da quasi 40 giorni. Secondo me è già entrato nella squadra, cioè si vede molto tranquillo come si gioca, sta divertendo in campo come tutti noi, quindi stiamo diventando un bello squadro. Alla prossima settimana però c'è di fatto da iniziare di nuovo da zero perché arriva un altro pareggiatore, Simone Giannelli, dovrei costruire l'intesa ma l'impressione è che tu possa farlo in fretta. Sicuramente in fretta perché lui è un bravissimo pareggiatore, è un professionista come tutti noi, quindi dura poco di trovare il ritmo del gioco con lui. Grazie a tutti.